ciao a tutti amiche amici di quinta dimensione letture bentornate anime grazie a tutti di seguirmi chi è nuovo e della prima volta che mi ascolta attivi la campanellina e si iscriva così può ricevere tutte le notifiche di quando metterò nuovi video allora oggi video di doppia utilità dove metterò un codice sacro e anche una frase delle parole magiche di cristiano tenca chi vuol sapere che è cristiano tenca insomma cerchi delle informazioni sui suoi libri eccetera eccetera perché ha pubblicato appunto rivisitato testato con della radionica comunque le parole magiche che sono state un po modificate e cambiate da lui proprio per avere un maggiore effetto una maggiore vibrazione per quanto riguarda i codici sacri invece oggi parliamo di un codice che può aiutarci a connetterci con l'anima gemella per cercare di insomma provare a chiamarla per fare in modo che arrivi la manifestazione della nostra anima gemella attenzione potrebbe anche non arrivare l'anima gemella ma magari aiutarla ad essere in connessione con noi intanto cioè iniziamo prima anche da una connessione va bene del sentirsi anche a distanza perché poi piano piano le cose si vanno a comunque materializzare nella realtà il codice sacro ne trovate diversi su questo canale sul mio canale e ve l'ho detto anche diverse volte comunque sono usati proprio come comunicazione con gli esseri di luce sono antichissimi cioè le loro origini diciamo le origini dei codici sacri si parla anche di atlantide va bene del tempo degli atlantidei che usavano appunto questi codici per comunicare con gli esseri di luce sono molto misteriosi sono basati diciamo su come dire una matematica va bene che però in realtà appartiene ad altre dimensioni non è una matematica come la conosciamo noi però sicuramente quando si recitano questi codici sacri diciamo si attivano delle energie di luce ma quelle alte cioè le alte sfere di luce e poi noi permettiamo ok queste alte sfere diciamo questa luce così luminosa di collegarsi proprio a noi quindi per ottenere lo scopo per cui uno recita il codice sacro allora praticamente molte volte mi chiedete questi codici sacri lo posso fare per qualcun altro sì o no sono nati per essere personali diciamo la verità cioè perché la potenza di chi recita è la potenza personale comunque sia no sei tu che ti attivi è la tua energia il tuo quinto chakra che ha questa vibrazione però è stato visto comunque che si possono recitare anche eventualmente per altre persone ponendo una intenzione quindi dire che io faccio questo codice sacro per eccetera eccetera sì certamente la cosa migliore è farlo per se stessi però insomma è stato visto che a volte è stato diciamo anche riscontrato si è avuto un certo riscontro anche per gli altri questo viene fuori dai nostri colloqui comunque da quello di cui parliamo è in privato allora oggi vi parlo del codice sacro 571 che ci aiuta a facilitare proprio la connessione con l'anima gemella è proprio una connessione spirituale ad alcuni poi si potrà manifestare anche un incontro con l'anima gemella per altre semplicemente una diciamo una connessione va bene quindi magari potrebbero venirvi delle intuizioni fantastiche delle cose particolari è molto bello va molto nel profondo questa cosa quindi è il 571 facilitazione di connessione con l'anima gemella e l'altra invece è la frase delle parole magiche di cristiano tenka appunto per l'anima gemella ok allora potrebbero verificarsi delle cose tipo che comunque sia quest'anima gemella magari si può manifestare anche come diciamo potete anche chiedere volendo la manifestazione di un partner adatto cioè il partner giusto va bene a voi comunque sia sempre un'altissima energia un'altissima luce che andiamo a chiedere va bene quindi abbiate sempre fede non stiamo a guardare la virgola di ogni cosa ok perché gli esseri di luce non interessano questi tipi di atteggiamenti ma interessa la fede la convinzione il cuore che mette chi recita insomma in quello che fa allora voi potete dirlo vi ripeto sopra me sopra la mia voce oppure farlo alla vostra velocità come volete voi non c'è nessun problema ditelo a voce sarebbe meglio a voce così con voce normale come parliamo noi o leggermente più bassa comunque sia a maggiore effetto perché il quinto chakra si attiva vibra ok che altro allora la diciamo la durata minima è 21 giorni perché dobbiamo andare a prendere scalpello e martello per il nostro subconscio ragazzi così funziona però diciamo che io consiglio di farlo finché non sentite un certo benessere in voi finché non vedete qualche cambiamento tangibile nella vostra vita quotidiana eccetera eccetera e comunque fino allo sblocco poi non mi rifate le stesse domande no e leggete i commenti anche delle altre persone perché io rispondo magari ci sono 4 5 domande uguali rispondo a uno non è che posso rispondere a tutti ok quindi se voi leggete i commenti in realtà vi fate un altro studio di quello che dico perché io rispondo a qualcuno e quella risposta può far comodo anche a te quindi leggete anche sotto specialmente nei video questi qua dove ci sono dei proprio dei contenuti ok da fare che devi fare personalmente è molto utile è quello che c'è nei commenti a volte perché do altre indicazioni in base alle domande vostre che può far comodo anche a te quindi la domanda di qualcuno ti può aiutare allora quindi minimo 21 giorni ma io consiglio di continuarlo finché ti senti va bene poi abbiamo comunque sempre la nostra bella genesa ricordo a tutti i bigliettini che potete fare no anche per anche durante il periodo che fate questa questo quadrice sacro con la parola magica associata potete anche fare il bigliettino sapete andatevi a vedere gli altri video dove spiego come mettere diciamo i post it come scriverli e come fare tutto per bene da inserire in genesa va bene nella genesa cristal ovviamente ricordo a tutti che la genesa cristal ha il suo maggior potere alla metà alla sua metà esatta quindi di questa sarà qui di quelle più grandi insomma calcolate voi quelle più grandi la metà poi abbiamo tre stese come avrai già visto qua i nostri cuoricini dove ti metterò una risposta angelica per l'amore quindi vediamo cosa ti vogliono dire per l'amore la prima stese la prima risposta che darò angelica è al cuoricino rosa è un rosa pastello è rosa la seconda risposta angelica è al cuore giallo la terza risposta angelica il cuore bianco quindi uno rosa due giallo tre bianco li lascio qui perché sono carini anche da vedere e sono anche decorativi quindi facciamo un po di scenografia adesso io lo farò per 45 volte allora ricordo infine una volta al giorno se nel frattempo hai altri codici che avevi iniziato aggiungi questo non c'è bisogno che aspetti di finire un codice e cominciare un altro ne puoi fare anche 3 4 5 6 al giorno ne inizi uno e ne finisci un altro allora questo in particolare non è che necessita proprio di una frase di apertura quindi non ve la metto fate voi questo canale vi incita a crescere a formulare voi con le vostre parole giuste l'intenzione va bene quindi rivolgetevi comunque all'universo agli angeli agli esseri di luce chiedete che questo codice sacro 571 vi faciliti la connessione con l'anima gemella che vi aiuti alla manifestare alla manifestazione quindi a manifestare una persona proprio nel vostro spazio fisico che potrebbe essere comunque la vostra anima gemella o proprio il partner ideale il partner adatto quindi fate voi questa richiesta angeli esseri di luce aiutatemi a manifestare il vero amore la persona adatta a me la mia anima gemella ok eccetera eccetera quindi noi partiamo subito col codice poi vi ci metto la parola magica di cristiano tenca facciamo sempre qualche bel respiro prima di iniziare è ovviamente intanto io preparo il conteggio delle 45 volte una volta al giorno ricordo non importa mattina pomeriggio sera certo la sera siamo un pochino più magari rilassati tranquilli no insomma farlo che ne so nel bel mezzo del pranzo dentro il trammo cos'è non è tanto l'ideale no questo lo capiamo anche da soli quindi trovate voi il momento giusto per voi quello che è giusto per voi è giusto non è che dovete chiedere a me se è giusto che ne so alle ore 15 non c'entra niente quello perché non so alle ore 15 la tua vita ok sentilo tu quando è il momento giusto dove riesci a a stare più connessa o connesso il momento giusto della tua vita tu lo devi trovare imparate a lavorare voi e a non chiedere solo agli altri voi dovete lavorare voi dovete sapere ok allora codice sacro 571 facciamo un bel respiro 5 7 1 5 7 1 5 7 1 5 7 1 5 7 1 5 7 1 5 7 1 5 7 1 5 7 1 5 7 1 5 7 1 5 7 1 5 7 1 5 7 1 5 7 1 5 7 1 5 7 1 5 7 1 5 7 1 5 7 1 5 7 1 5 7 1 5 7 1 5 7 1 5 7 1 5 7 1 5 7 1 5 7 1 5 7 1 5 7 1 5 7 1 5 7 1 5 7 1 5 7 1 5 7 1 5 7 1 5 7 1 5 7 1 5 7 1 5 7 1 5 7 1 5 7 1 5 7 1 5 7 1 5 7 1 5 7 1 5 7 1 5 7 1 5 7 1 5 7 1 5 7 1 5 7 1 5 7 1 5 7 1 5 7 1 5 7 1 5 7 1 5 7 1 5 7 1 5 7 1 5 7 1 5 7 1 5 7 1 5 7 1 5 7 1 5 7 1 5 7 1 5 7 1 5 7 1 5 7 1 5 7 1 5 7 1 5 7 1 5 7 571, 571, 571, 571, 571. 571 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 5715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715715 571 571 571 571 571 571 571 eccoci qua quindi l'abbiamo recitato per 45 volte allora adesso andiamo con la parola magica con la frase delle parole magiche di cristiano tenka che ci aiuta sempre con questa connessione con l'anima gemella o quantomeno comunque il più altissimo partner va bene più adatto proprio a noi quindi abbiamo fatto il codice 571 potete fare tutti i giorni insieme cioè il pacchetto il codice sacro e la parola magica oppure prima la parola magica poi il codice sacro potete fare anche insieme questo lavoro le parole magiche allora di cristiano tenka sono appunto dei libri è che ce ne sono tantissime per tantissime situazioni va bene e possono essere inserite anche come intenzione dentro una genesa per aiutare comunque proprio lo sblocco di questa cosa ok scrivendo il bigliettino che durerà sette giorni che poi andrà bruciato o stracciato buttato via rifatto nuovo proprio perché la genesa è una geometria sacra perfetta va bene e amplifica proprio le energie allora adesso facciamo sempre un altro respiro e andiamo con la parola magica che dovete dire scusate dalle tre alle cinque volte al giorno in tre momenti diversi della giornata quindi magari tre o cinque volte il mattino tre o cinque volte il pomeriggio tre o cinque volte la sera adesso ve la dico tre volte va bene però insomma tre volte al giorno tre volte al giorno in tre momenti diversi va bene e poi insomma la durata la durata vedete voi fate insieme magari il pacchetto insieme al al codice scegliete voi la durata io consiglio sempre finché non si vede un miglioramento di farlo allora andiamo con la parola con la frase delle parole magiche partner anime al licio partner anime al licio partner anime al licio quindi questa frase potenzia proprio questa cosa con l'anima gemella va bene chiediamo proprio all'universo prepariamoci proprio mentalmente dobbiamo essere connessi mentalmente ripeto non va bene farla mentre cucini non va bene farla così tanto per farla bisogna proprio chiedere una connessione essere proprio ben predisposti ok le energie universali prepareranno proprio questo incontro va bene quindi adesso andiamo con le nostre stese con le nostre risposte vediamo una risposta che riguarda solo l'amore perché questo video riguarda solo l'amore va bene quindi non fare domande diverse da ciò che è l'amore se non hai l'amore se l'amore non ti interessa magari lascia stare insomma questo pezzo di video dove ci sono le risposte invece a chi interessa allora prendiamo adesso i nostri angeli e mi rivolgo a chi ha scelto questo cuore il cuore rosa il primo vediamo per l'amore che risposta c'è qua per chi ha scelto il cuore rosa per l'amore la risposta è trova un compromesso eccoci qua trova un compromesso vediamo anche la spiegazione anche se insomma non è non è insomma molto da da interpretare però io lo faccio per insomma per correttezza per per essere più ancora precisa perché questa situazione si concluda felicemente ti sarà necessario scendere a compromessi concediti un po' di tempo per fare chiarezza su ciò che conta davvero per te e prendi nota delle questioni su cui invece saresti disponibile a cambiare la tua posizione lavora per trovare un accordo vantaggioso per tutti resta aperto a un tipo di cooperazione che permetta a te di ottenere ciò che vuoi e agli altri di realizzare i loro desideri sia oggettivo nel trovare un equilibrio che ti consenta di rispettare il punto di vista di tutti senza tradire i tuoi principi va bene quindi qua in amore c'è a volte anche da capire che non sempre c'è la perfezione che noi vogliamo anche se troviamo il partner proprio ideale altissimo nostro o l'anima gemella addirittura però insomma qua dobbiamo capire che non è sempre tutto perfetto perché siamo ancora qua no? siamo ancora su questa terra perciò comunque proprio la cosa perfetta non può essere mai cerchiamo a volte di smussare i nostri di angoli va bene? e cercare di far smussare anche agli altri cioè cercare il dialogo cercare proprio di non dico incastrare per forza però facciamo un passo tutti quanti lo faccio io lo fai tu ok? quindi venirsi un po' incontro dopo ci sono delle cose su cui uno proprio come ci diceva proprio la spiegazione della carta non si deve passare sopra perché lì no ok? però tutto il resto ti diceva valuta se magari puoi fare un passettino anche tu va bene? sempre per il più alto bene di tutti va bene? questa è la risposta per te cuore rosa adesso cuore giallo la risposta in amore cuore giallo vediamo medita per trovare la risposta ecco quindi qui devi fare proprio il codice devi fare il codice devi fare tutto e meditazione usare l'intelletto per trovare la risposta a ciò che ti preoccupa è stato inutile perché le soluzioni che cerchi possono essere individuate solo guardandoti dentro con la meditazione o con un lavoro spirituale sull'interiorità puoi anche ricevere intuizioni dai sogni notturni poiché il subconscio crea soluzioni inaccessibili alla mente vigile va bene? quindi qua devi comunque trovare la strada non della ragione non della mente non dell'intelletto quindi qua la soluzione più felice per l'amore è comunque uscire dalla mente seguire veramente solo l'amore universale l'energia l'universo andare dentro di te qua l'amore si può manifestare solamente se entri dentro di te perché riceverai come ti dice qua anche dei segni delle risposte in amore va bene? quindi attenzione anche ai segni ma i segni non è che si hanno quando si è distratti i segni maggiori i più importanti le risposte si hanno intanto con un buon lavoro personale crescita della propria energia emanazione di luce e tutto questo avviene con il lavoro personale con la meditazione lì si hanno le visioni si hanno le risposte quindi medita per trovare la risposta qua ti arriveranno delle risposte ti dicono quando farai del lavoro personale quindi facci caso e vedi di cercare di interpretare la risposta per te grazie cuore giallo andiamo anche con il cuore bianco e vediamo la risposta in amore per il cuore bianco vediamo un po' qual è per il cuore bianco dipende da te ecco dipende da te cuore bianco allora vediamo un po' anche qua cosa ci dice l'esito finale della situazione per cui hai posto la domanda è completamente nelle tue mani hai il potere di influenzare il risultato mantenendo un approccio proattivo per risolvere qualsiasi difficoltà libera il tuo potere e abbi fiducia hai tutto ciò che serve per un lieto fine prendi in mano la situazione senza attendere che lo faccia qualcun altro ci vogliono la tua esperienza è la tua prospettiva unica per assicurare il buon esito della situazione tu sei fondamentale cuore bianco prendi in mano sta situazione proviamo anche a fare il codice sacro con le parole magiche eh fai tutto quello che è in tuo potere sei tu qua la persona chiave sei tu la persona l'anima che può sbloccare questa situazione in amore quindi qua magari chiedi aiuto proprio eh alle energie superiori anche tramite guardate che il codice sacro smuove le energie superiori eh quindi è un ottimo modo per prendere in mano la situazione visto che tu soprattutto cuore bianco hai nelle tue mani l'esito finale ci dicono qua che dipende molto da te quindi mi raccomando massima concentrazione chiedi proprio di avere la risposta di quello che devi fare perché tanto tanto dipende da te qua qua dipende proprio da te che ascolti eh molto quindi qua magari sei tu che puoi alzare l'energia della situazione amorosa se c'è o se non c'è lo stessa cosa alzarla per farla accadere per farla manifestare io parlo di manifestazione anche eh cioè perché tante cose nelle altre dimensioni sono già accadute sono già avvenute mentre nella terza dimensione no perché è una dimensione difficile e dolorosa va bene cuore bianco grazie di avermi seguito invito tutti a lasciarmi un like a questo video a fare l'iscrizione a questo canale guardate anche altri decreti parole magiche eccetera nelle playlist di questo canale chi vuole una risposta gratuita ad una semplice domanda può fare una piccola donazione su ko-fi.com e io risponderò alla domanda gratuita allora guardate anche la descrizione del video eh chi vuol parlare con me le consulenze private anzi saluto tutti grazie che ha parlato con me spero tutto bene grazie mille a tutti quanti sapete che con le consulenze personalizzate non è che sono solo consulti quelli sono veramente delle terapie cioè sono veramente delle crescite personali io seguo persone anche da anni dove c'è un percorso di crescita non è che si guarda solo il discorso insomma sì o no perché per come eccetera eccetera ci sono lavori come anche le pulizie energetiche tutte queste cose che servono proprio piano piano a farvi salire sempre più in alto ripeto se volete perché qualcuno me l'ha chiesto se è possibile un percorso di crescita insieme a me al telefono dico assolutamente sì quindi potete anche chi ha voglia insomma di adesso ci sono tante tante di queste cose che si possono fare con collegamenti internet telefono no anzi soprattutto adesso ma è anche meglio comunque perché tante volte le energie un po' contrastanti tendono a a non far avere dei buoni risultati invece essendo più virtuali anche se le energie passano lo stesso però è anche meglio per certe cose ci sono state un po' più di pulizie piuttosto che vedersi di persona è meglio così a volte perché l'essenziale passa passa solo quello che deve arrivare non è bisogno di vederla la persona non è quello questo è proprio un lavoro che sta facendo l'universo molto importante in realtà cioè attraverso semplicemente l'anima quella che ti arriva a te è la mia anima perché tu non mi vedi quindi se ti piace quello che dico è perché ti arriva la mia anima ed è questo l'essenziale l'universo ci sta proprio dicendo ci sta invitando ad abbandonare ciò che è superfluo non abbiamo bisogno di sapere anche perché questo è un involucro di questa vita le vite scorse ce ne avevo un altro le prossime vite ne avrò un altro esattamente come te ne avevi altri ne avrai altri va bene quindi guardiamo l'essenziale guardiamo l'essenza di qualcuno va bene e lasciamo perdere tutto il resto allora vi invito per maggiori informazioni a leggere anche i commenti perché quando rispondo alle persone può servire può essere utile anche a te va bene quindi che altro dirvi vi ringrazio di essere sempre così carini qua su quinta dimensione letture grazie per la crescita esponenziale di questo canale anche negli altri social grazie c'è chi mi segue dappertutto che dirvi vi mando un grande abbraccio e vi aspetto presto qua su quinta dimensione letture per un nuovo interattivo con me ciao a tutti e grazie grazie